Siamo con Agostino Vastante, presidente del Lions Club Gabicce Mare, che ha ideato, con alcune importanti collaborazioni di cui ci dirà, questa manifestazione così importante. A lui naturalmente chiediamo di parlarcene e di introdurci a quelli che sono i temi e gli argomenti che ci hanno portato qui di domenica mattina nella piazza Municipio di Gabicce Mare. Grazie a voi, questo è un evento importantissimo per noi Lions, è un evento che vede coinvolta la terza circostrizione, la zona A, che comprende sette club, hanno aderito a questo progetto. Il progetto consiste nell'aver acquistato un microscopio con focale da donare all'ospedale Salesi di Ancona. Siamo enormemente orgogliosi e fieri di questo service, di questo progetto, perché donare uno strumento del genere significa regalare speranza di vita a bambini che in questo momento stanno soffrendo, a genitori che sono appesi appunto a una speranza e come genitori e come uomini e come Lions appunto siamo veramente orgogliosi e fieri. Imprenditori, aziende, in più l'associazione internazionale Lions che è intervenuta con 100 mila dollari in un lavoro che è durato tanto, però abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto, questa attrezzatura tecnica costosissima è stata acquistata, ma noi siamo qua e vediamo che la raccolta fondi continua, perché diciamo che non si arriva mai alla fine. Diciamo che i soldi non sono mai in più, come si suol dire. Sì, allora l'obiettivo è stato raggiunto, con quello che raccoglieremo oggi in questa giornata andremo ad acquistare delle parti integrative, oppure pensavamo alla formazione del personale che dovrà essere abilitato ad usare questo strumento. Quindi il Lions è sempre in movimento, il Lions c'è e il valore umano fa la differenza, in questo caso bisogna proprio dirlo. Grazie. Grazie.